Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 sarà 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 vero, sarà sarà oh codici 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 qua in offerta non lo devo guardare oh oggi 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 ora il casco il casco che si vedi che si vedi che si vedi che si vedi si andava in piume mia oddio dove hai hai messo piume hai messo acqua hai messo acqua primo 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 no si era fiume ah a posto che era fiume si è a posto qua a sinistra guarda è il primo cacaro il giro dei cacari signori cacaro cosa devo fare una foto cacaro cacaro due oggi oggi è bici cacaro 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 un par di anni fa o un par di mesi fa? no, un anno bello qua ma si vede che vede una amicizia no? si, si, si ah beh ma lo conosco bene ai tempi da ai tempi da e dopo avevo fatto anche un tocco di naia insieme vabbè mi soffro un po' all'inizio è andato a rovinare la parte e roba skate è andato in giro e poi andato con i cori e poi andato a skate e poi andato a casa e poi andato a marzo aprile e poi andato via 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 ah infatti lo vedevo quel furgone bianco quella calatura c'è qui è da salano si oppo qui sta il giorabio non è il giorabio in giro è il murà è il giorabio è il giorabio si qui che fai il giorabio il giorabio si 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 oh 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 che freddo che freddo che freddo che freddo suzuki a questa brrr 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 Grazie a tutti. 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 Perché nove volte su dieci ti passi. Sì, sì, è vero, però perché se no... Ti metti sui piedi...